Investire ha un'importanza cruciale nel contesto finanziario e personale. Al di là dell'accumulo di ricchezza, gli investimenti costituiscono un mezzo fondamentale per raggiungere diversi obiettivi finanziari e migliorare la situazione patrimoniale nel tempo. Innanzitutto, gli investimenti offrono l'opportunità di far crescere il proprio capitale. Attraverso scelte ocolate e strategiche, è possibile generare rendimenti che superano l'andamento dell'inflazione, preservando così il potere d'acquisto nel lungo termine. Inoltre, gli investimenti rappresentano una strada per diversificare il patrimonio, riducendo il rischio complessivo dell'intero portafoglio. Una corretta diversificazione tra diverse classi di asset contribuisce a mitigare l'impatto negativo di eventuali fluttuazioni di mercato. Dal punto di vista della pianificazione finanziaria, gli investimenti forniscono l'opportunità di realizzare obiettivi a lungo termine, come l'acquisto di una casa, aumentare la propria stabilità e serenità finanziaria o la preparazione per la pensione. La creazione di un portafoglio di investimenti mirato consente di adattare la strategia agli obiettivi individuali e alle esigenze specifiche. L'investimento può offrire una fonte di reddito passivo attraverso dividendi, interessi o plusvalenze. Questo reddito supplementare può contribuire significativamente al miglioramento della sicurezza finanziaria complessiva. Investire non è speculazione finanziaria, è un mezzo strategico per crescere economicamente, proteggere il proprio patrimonio e realizzare obiettivi finanziari a lungo termine. Seguici per altri contenuti sul mondo dell'economia sui nostri canali social.